di bene ti spiegherà con la massima chiarezza cosa fare per avere fortuna e vincere il male contattalo se hai qualche dubbio o problema in qualsiasi campo non rimandare perché il tuo caso è importante e puoi risolverlo subito solo con la competenza assoluta di Letterius che da anni è conosciuto per la sua serietà e per aver risolto molteplici casi con successo se vuoi risolvere immediatamente il tuo problema puoi telefonare per fissare un appuntamento più vicino alla tua città 335 65 92 908 riceve in qualsiasi parte d'italia e anche all'estero Letterius è l'altra faccia della realtà professionista dell'alta magia e ovunque riscuote successo e fama internazionale perché si dedica al suo lavoro con onestà e passione la sua infinita potenza ed energia possono essere decisive per la tua vita ti indicherà la via più giusta per raggiungere la serenità in amore affari con i tuoi figli il maestro Letterius prenderà in considerazione il tuo caso e saprà darti il consiglio più appropriato per risolverlo mentre stai vedendo questo filmato Letterius è nella tua città contattalo se vuoi immediatamente non perdere tempo 335 65 92 908 per casi importanti interviene a domicilio riceve nelle principali città d'italia 335 65 92 908 naturalmente tutti gli appuntamenti presi dall'operatore dell'occulto Letterius sono riservatissimi 335 65 92 908 il maestro Letterius per ogni tuo problema in amore lavoro ti darà un appuntamento nella massima riservatezza tuo figlio è cambiato è ribelle ti preoccupa il suo stato d'animo non disperare Letterius il maestro può riportarlo alla serenità in questo periodo mentre sta andando in onda questo filmato è proprio nella tua città puoi contattarlo e parlare direttamente con lui fissando un appuntamento 335 65 92 908 lo scopo del maestro Letterius è di rivelare verità nascoste che sono dentro di noi di portare luce nella nostra vita serenità successo di consigliare e guidare e soprattutto di annientare l'invidia e tutto il male che spesso ci circonda e da soli non siamo in grado di allontanare ma con effettivamente